quindi ricci la domanda viene da sé la russia sta perdendo questo conflitto ma qui dobbiamo davvero fare la tara perché in da quando il conflitto è iniziato noi siamo letteralmente bombardati da come dire un'informazione molto spesso molto molto parziale in cui diciamo più che fornire un'analisi dei fatti dell'andamento del del conflitto assistiamo in maniera spesso parossistica a degli schieramenti piuttosto evidenti in cui si prende la parte di uno dei dei contendenti e si fa il tifo più che informare il pubblico italiano e quindi quando si assiste a questa a questo genere di ondate di assoluto tifo evidentissimo tifo e anche di quasi proclamazione di vittoria annunciata e d'altronde è da fine febbraio che assistiamo a fasi alterne a questo genere di situazione dobbiamo in realtà vedere la situazione realmente in in campo da parte russa si si sono fatti i conti delle perdite ucraine e si parla di centomila uomini su un totale di oltre duecentomila quindi sono state più o meno dimezzate le forze in campo eh ucraine eh pensare che si stia vincendo una guerra per una riconquista di alcuni eh territori ehm è del tutto parziale evidentemente eh le cose non stanno propriamente così il fatto che la Russia abbia indetto dei referendum per annettersi ufficialmente i territori conquistati di cui abbiamo parlato prima eh beh non mi sembrerebbe una grandissima vittoria da parte eh da parte ucraina quindi eh ecco invito il pubblico chi ci segue a a fare molta attenzione quando eh si leggono le presunte informazioni da parte del eh dei media perché molto spesso nascondono eh più che delle verità di fatto che sono molto difficili qui c'è un altro paradosso siamo eh nell'epoca della informazione dei big data e si hanno poche informazioni reali sul eh sul conflitto in atto ecco ehm bisogna fare la tara perché molto spesso si celano eh più delle dei desiderata è un tifo che è la verità oggettiva ecco è un tifo che ci sono